Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Signore sia con voi, fratelli e sorelle carissime, ed insieme preghiamo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, sempre alle mie spalle perché mi protegge. Poi sulla scrivania un bel crocifisso, davanti la mia bella Madonnina, ecco, la vedete che è sempre alle mie spalle. Ecco, chiedo sempre la vostra preghiera per questa evangelizzazione e davvero, ecco, per tutto quello che è l'Apostolato, predicazione, videocatechesi, carta stampata, ce n'è un grandissimo, urgentissimo bisogno. Bene, eccoci alla quarta mistica, alla quarta figura che oggi vi presento. È inutile dire che sono affascinato anche da quest'altra figura. Certo, ho un debole per le mistiche, per la mistica laica, ma perché sono affascinato da quello che il Signore fa in queste sorelle, in questi miei fratelli? Non posso negarlo. Bene, se ricordate, la Beata Anna Maria Taigi si consacrò nel terzo ordine della Santissima Trinità, il Sole della Trinità, questa singolarissima apparizione, rivelazione che lei ha avuto, davvero uniche, quelle della Beata Anna Maria Taigi. La Cabrera, concilia di Armida, si consacrò solo alla fine della vita. Lei che pure ha fondato, aveva fondato molte opere, le cosiddette opere della croce. E Benedetta Bianchiporro è stata una laica, una laica che con la sua cattedra della sofferenza ci ha insegnato davvero il mistero della croce. E quest'altra figura che oggi vi presento è Anchella, una laica. Io sono affascinato. Si chiama Maria Bolognesi, è stata canonizzata nel 2013 da Papa Francesco, è nata il 21 ottobre del 24 in un paese in provincia di Rovigo, Bosaro, o Bosaro ma Bosaro penso si pronunci, nella cui chiesa parrocchiale è tuttora sepolta. Pensate che il cognome bolognesi lo ricevette dal patrigno Giuseppe, sposato dalla madre, quindi una figlia illegittima di Amedeo Gozzati e Giuseppa Samiolo. Questa ragazza, data la povertà della famiglia, andò a lavorare nei campi come bracciante agricola. Per 26 anni questa ragazza, questa donna, ripeto nata il 21 ottobre del 24, frequentò solo i primi due anni delle scuole elementari e non riuscì poi più, proprio perché doveva lavorare, a studiare. Anche perché la piccola era denutrita. Si consacrò al Signore sin da piccola e alla Madonna. Tenetelo presente, perché questi due elementi, vita eucaristica e amore per la Madonna, ricorrono. Sono due fili conduttori. Adorazione al Santissimo e affidamento alla Beata Vergine Maria sono due elementi caratterizzanti la mistica, la santità, soprattutto degli ultimi tempi. Poi non facciamo fatica ad aprire perché. Che santità ci può essere, se non nell'adorazione al Santissimo Sacramento, che è il modo di stare con Cristo, adorarlo, essere assimilati a Lui, ricevere la sua grazia ed essere condotti in questi tempi, noi missionari degli ultimi tempi, se non da Maria e per mezzo di Maria. Due direttrici fondamentali. Bene, questa bambina si consacrò al Signore sin da piccola, sin da bambina. Ed è eccezionale questo. E in una situazione familiare molto difficile. Il patrigno picchiava la madre spesso, la tradiva, la mamma nervosa, bestemmiatrice, malmenava i piccoli. E la bambina fu allontanata e poi crescendo naturalmente fece umili lavori. Allora, tra cambi continui di residenze, lavori faticosi. Patì un lungo elenco di malanni, Maria Bolognesi. Subì paurose tentazioni diaboliche. Non si diede mai per vinta. La cosa straordinaria di questa mistica, del nascondimento. Sfido molti di voi a dirmi se avevano mai sentito parlare della beata Maria Bolognesi. Una vita umilissima nel nascondimento. Faceva tanta carità. Lavorava la canapa, raccoglieva il frumento, le barbabietole. Andava persino a pescare. Imparò a confezionare vestiti, pantofole, scarpette e persino piccole opere di muratura. Una donna umilissima. Eppure questa donna è stata arricchita di tanti doni mistici. Di profezie, soprattutto. Quindi la si vedeva fare carità, aiutare i bambini, per i quali faceva tutto. Faceva la calzolaia, la sarta, la falegname, la questuante. Frequenti erano le sue visite agli ammalati, l'assistenza notturna ospedaliera, poi raccoglieva denaro, generi di prima necessità per le famiglie indigenti. Fino a che muore d'infarto a Rovigo il 30 gennaio del 1980. E vi ripeto, le sue spoglie tuttora sono custodite nella chiesa parrocchiale del suo paese. Perché è importante? Voi mi direte, ci sono tanti santi, tante mistiche che hanno fatto carità. Ci sono tante mistiche che comunque hanno vissuto la virtù eroica di carità. D'altronde sapete, in tutti i santi, in tutti i figli di Dio, naturalmente ci sono elementi di santità. In tutti i figli di Dio ci sono virtù, anche se poi una santa riluce per una virtù più che un'altra, ma tutti dobbiamo convergere verso la virtù teologale della carità. Tutti animati dalla fede dobbiamo condividere in sommo grado la virtù della carità. Beh, anzitutto che il Signore prepara per mezzo del suo santo spirito alla santità in modo davvero singolare. Voi pensate che fu presa per un bel po' di tempo da una misteriosa possessione diabolica. Naturalmente questa fu volontà del Signore che la liberò a prezzo di indicibili sofferenze. E ricordate sempre, proprio perché come diceva il servo di Dio, Divo Barsotti, la nostra è una mistica della riparazione, perché o è tale o non lo è, e in questi ultimi tempi si vede fortissimamente, il Signore sta salvando, il Signore vuole salvare l'umanità, vuole ridimere l'umanità, e allora cerca anime spiatrici. Beh, alla Beata Maria Bolognesi il Signore permise fosse posseduta, facesse anche questa esperienza molto umiliante, straziante di sofferenza, ma poi naturalmente la liberò. Ecco, questa umilissima mistica italiana del Novecento a prezzo di indicibili sofferenze e appunto, diciamo così, con questa particolare forma di sofferenza ha salvato tante anime. Vi diceva che il 21 giugno, è nata nel 24, il 21 giugno del 1940, quindi all'età di 16 anni, per Maria inizia un profondo stato di malessere, c'è come una forza che le impedisce di mettere piede nella parrocchia di San Cassiano. Le amiche raccontavano addirittura che come se le sottane, i suoi vestiti fossero tirati da una forza misteriosa. Fugge alla vista di qualsiasi sacerdote, e voi mi direte, beh, sembrerebbero i casi, i segni tipici di una possessione diabolica, l'avversione al sacro. Non riesco a entrare in chiesa, fuggo dai sacerdoti, tanto più che sembra proprio essere strattonata, allontanata via dalla chiesa parrocchiale. Il papà nel 1941 la immobilizza perché le sia praticato un esorcismo, e da un sacerdote prima e poi anche dal vescovo. La possessione a quel punto si attenua, anche se prosegue nel gennaio del 1942. Poi dal primo aprile successivo la situazione si ribalta. Iniziano le visioni mistiche. E pensate che a Maria, a questa umilissima ragazza, questa umilissima donna, Gesù consegna tre anelli, fenomeni accompagnati poi da forme di partecipazione fisica, sul calvario da Gesù, e comincia poi Maria ad annotare le sue esperienze mistiche. Pensate che scriverà oltre duemila pagine. Io non sono in possesso di queste pagine, ma naturalmente sono curiosissimo di leggerle, di sapere se c'è qualcosa anche di tradotto in italiano. Fatto state dal 1942 in poi, il corpo di questa donna viene continuamente attraversato dall'esperienza della malattia, per quasi 40 anni. Resta una donna comunque molto attiva, continua a vivere il suo impegno nell'azione cattolica, il servizio come catechista parrocchiale. E vi dicevo, questa carità fatta nel silenzio, la rende una povera tra i poveri, un segno di umiltà, nonostante i grandi doni mistici che la richirono nel rapporto con il Signore. Ecco, questa sofferenza che diventa per noi davvero qualcosa di straordinario, perché vi ripeto, un po' come abbiamo visto per la Beata Benedetta Bianchiporro, la scorsa catechesi, questo misterio del Calvario è forte. Certamente in Maria Bolognesi diventa meno accentuata, ma non meno cruenta, perché ripeto, pochi casi, nella Chiesa si registrano pochi casi di santi, di beati a cui il Signore ha permesso fossero posseduti. Un altro caso si racconta della Beata Eustochio. Non so quanti di voi conoscono la vita di questa potente, ecco, alleata contro le forze del male. Ecco, la Beata Eustochio, sepolta a Padova, ha fatto questa esperienza terribile di possessione, uscendone però, ecco, straordinariamente. Ora, perché vi cito questa santa? Vi dicevo che è stata arricchita di diversi doni mistici, tra cui il dono di profezia. Maria Bolognesi è morta nel 2013, sappiamo tutti, ma durante la sua vita mistica ricevette diverse profezie. Vi ricordate nella vita della Beata Benedetta Bianchiporro? Tutti sappiamo di un amore offerto anche per la santificazione dei sacerdoti. La Beata Ana Maria Taigi si è spesa molto per i sacerdoti, la Beata Concida Cabrera di Armida si è espressa molto per i sacerdoti. Le sue rivelazioni si può dire sono tutte sul sacerdozio, tutte tese a far capire ai sacerdoti chi sono. Bene, sentite le profezie che Gesù fa a Maria Bolognesi. Anzitutto profezia, c'è una profezia, guardate che siamo nel 1960, 40 anni prima, e Gesù le viene detto che tante vittime procureranno persone che si suicidano, con un riferimento a quelli che sarebbero stati gli attentati del 2001 alle Torri Gemelle a New York. e non solo perché, ecco, le Torri Gemelle a New York, l'ha tentato poi al Pentagono, e quindi quelli terribili episodi terroristici che provocheranno più di 2000 morti. E attento, Maria, Maria, ti raccomando la recita del rosario per la santificazione dei sacerdoti e per le tante vittime procurate da persone che si suicidano. Questa è la profezia, appunto, terribile che si addempirà 41 anni dopo, appunto, nel 11 settembre 2001, con quegli attentati che cambieranno la storia del mondo. Ma attenti, perché c'è una rivelazione che Gesù fa a questa umilissima anima per i sacerdoti. vedete, siamo sempre lì. Se avessimo dei dubbi sulla profezia di Fatima, su quel terzo segreto che ci dice che l'apostasia della Chiesa verrà dall'interno, denunciata anche da Papa Benedetto negli ultimi anni, non dimenticatela mai la famosa Via Crucis, le famose meditazioni di Papa Ratzinger alla Via Crucis, quando denuncia la corruzione, il marcio all'interno della Chiesa per opera di alcuni uomini di Chiesa. Vedete la mistica? Come si apre a questo dolore del Signore. Noi ne abbiamo già parlato di Luisa Piccarreta, ne abbiamo già parlato nel Libro di Cielo, quando abbiamo detto figlia mia, bisogna che si preghi tanto per i sacerdoti, per i pastori della Chiesa. Bene, sentite che cosa il Signore dice a questa donna umile, ammalata, che permette che soffra per salvare la Chiesa nei suoi ministri, nei suoi pastori. Maria, attenti eh, pensate, queste sono profezie fatte che non hanno nulla da invidiare a quelle di Fatima, appunto, sulla postasia della Chiesa, ma fatte 50 anni prima che si verificassero, che si stanno verificando sotto i nostri occhi. Maria, tutto quel lavoro, quello che tu fai, dovrebbero farlo? Dovrebbero averlo tanti sacerdoti giovani, mentre essi vanno perdendosi tra il fango e la miseria. Ecco perché per due anni viene posseduta, ecco perché per due anni il Signore permette che questa umile anima sia addirittura posseduta dal demonio, perché appunto nelle sue, nel suo corpo, nelle sue membra, questa santissima donna possa anche mettere in guardia i ministri, eh, la Chiesa, appunto, Maria, Maria, ti raccomando la recita del Rosario. E li offre espressamente, glielo dice, per due motivi, uno per la santificazione dei sacerdoti e due per le tante vittime procurate da persone che si suicidano. E questi chi sono se non i terroristi? Chi sono questi se non quelli che poi, appunto, avrebbero, eh, i kamikaze che avrebbero seminato morte, terrore, distruzione dal 2001, ma anche poi, eh, appunto, quelli, gli attentati che seguiranno. L'abbiamo visto tra Francia, Germania, Belgio. Eh, quindi, Maria, tutto quel lavoro dovrebbero averlo tanti sacerdoti. E questa è la crisi della Chiesa, mentre essi vanno perdendosi tra il vaticano, tra il fango e la miseria. Eh, proprio ieri leggevo, e questo purtroppo è una notizia tristissima, dell'ennesimo suicidio di un sacerdote in Brasile. Ma non è che qui in Italia siamo poi messi molto meglio. I sacerdoti sono lasciati soli. C'è un problema a livello individuale, sicuramente, a livello di motivazione vocazionale, a livello di spiritualità, di santità di vita. Ma è in dubbio, è in dubbio che c'è un problema anche a livello di organizzazione ecclesiastica, di istituzione ecclesiastica, che lascia soli i sacerdoti, che purtroppo non si cura di questa, dei desideri, dei bisogni più reconditi del sacerdote, della urgenza, della necessità della comunione presbiterale. E quindi, ecco, vi ripeto, approfondite, se potete, la vita di questa straordinaria mistica, appunto la mistica Maria Bolognesi, non soltanto, non soltanto, ecco, per quella che è stata la sua vita, la sua umiltà, ma anche e soprattutto per quelle che sono state le sue profezie attualissime, profezie che hanno un vigore, un significato comparabile a quelle di Fatima, eppure sono state fino ad oggi silenziate. Anche questo, a mio avviso, sa di qualcosa di diabolico, mettere a tacere, ma il Signore non permette, insieme al suo Santo Spirito e all'Onipotente, la Trinità Santissima, non permette che poi certe cose siano passate sotto silenzio, perché se queste cose le tacciano i pastori, poi le gridano le pietre, o meglio, le gridano queste anime umili e semplici, come la Beata Maria Bolognesi, donna che ha vissuto nel nascondimento, nella sofferenza, nel colloquio intimo con Gesù, e spendendosi, spendendosi in una carità eroica, senza limiti, perché la carità non viene fatta a chi ci è simpatico, ma a tutti, piccoli, grandi, poveri, ricchi, credenti e non vicini e lontani. Ecco, rendiamo grazie al Signore perché nel 2013, quindi appena otto anni fa, ci è stata regalata quest'altra anima bella. Ecco, una donna trasfigurata in Cristo, una donna che ha vissuto in Cristo, una donna che pur tra tante estasi mistiche è stata semplice, ecco, ha vissuto in nascondimento. E questo è l'aspetto più affascinante della mistica. Il mistico non è un uomo disincarnato con i piedi alti da terra, il mistico è un uomo che vive profondamente le vicende del suo tempo, che vive tra i suoi fratelli, che si spende per i suoi fratelli, ma che allo stesso tempo, e questo ci piace dirlo, è una persona che vive con senso di realismo assoluto. E il realismo più bello è valorizzo e amo ciò che ho. A partire da ciò che ho, da ciò che conosco, ecco, lodo il mio Signore, lodo il mio Dio. Beata Maria Bolognesi, prega per noi. Grazie per averci detto che dobbiamo recitare il Rosario, per la santificazione dei sacerdoti che si perdono o rischiano di perdersi, e per tutti quelli che si suicidano per provocare i morti. Grazie per l'ascolto, carissimi. Pregate per me, io vi ricordo l'altare del Signore quotidianamente.